Ottima domanda, ne avrò risposto un miliardo dello stesso stampo, ma Kendrick e Tyler, però Kendrick, se mi trovassi lì a scegliere Kendrick ovviamente, no, spam di messaggi inutili, come ti trattano a scuola? A scuola mi trattano normalmente, ho cercato sempre di mantenere un profilo basso, però vuoi o non vuoi la notizia è arrivata relativamente di recente ai professori, quindi un po' mi trovo in difficoltà, però cerco un attimo di mantenere un profilo basso comunque, che si creano tanti pregiudizi e tante cose, per forza. Rapporto tra te e ariete? Allora ieri non abbiamo avuto ancora la possibilità di beccarci a causa Covid, però comunque per l'intesa che abbiamo avuto c'è un ottimo rapporto che per ora è prevalentemente artistico, più avanti vedremo se è questo cazzo di Covid inutile. Cosa ne pensi del bambino? Se vengono dette certe cazzate su Insta raga è giusto non diffonderle.